Siero dato Gesù sacramentato. Carissime sorelle, anche per ciascuna di noi questa parola dell'Angelo a Maria si compie se come lei rispondiamo, ecco, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la Tua parola. Lo ribadisce San Bernardo nelle sue Omenie sulla Madonna. Rispondi la Tua parola e accogli la parola. Di la Tua parola umana e concepisci la parola divina. Emetti la parola che passa e ricevi la parola eterna. Nel lasciarci coinvolgere in questo mistero, noi adoratrici siamo avvantaggiati, perché San Francesco Spinelli, proprio davanti al mistero dell'Incarnazione, piavesse, pregò e sognò. Sì, avvenga anche per me, per ciascuna sorella, per le nostre comunità, la sua promessa e ci trasformi in dimora ospitale del mistero, quel mistero avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma che ancora oggi vuol parlare in noi e attraverso di noi. Non è questa la santità. Il Signore ha scelto ciascuna di noi per essere sante e immacolate di fronte a Lui nella carità. E la santità non è altro che la carità pienamente vissuta. Sappiamo che la santità è prima di tutto il frutto dello Spirito nella nostra vita. Perciò non dobbiamo scoraggiarci, perché la forza dello Spirito Santo è in noi. Costudiamo nel cuore la gioia, custodiamo il dono della carmizzazione del nostro Padre Fulgatore come una grazia che ci è stata data per vivere intensamente la vocazione di adoratrici in risposta all'amore. Continua San Bernardo nel testo citato. Non sia che, mentre tu sei titubante e ti passi oltre, e tu debba dolente, ricominciare a cercare colui che ami. Levati su, corri, apri. Levati con la fede, corri con la demozione, apri con il tuo senso. Questo tempo di grazia continua dopo la canonizzazione, con la preparazione e con l'evento capitolare. Pertanto, oggi, vi comunico con gioia e gratitudine al Signore, l'indizione del diciassettesimo capitolo generale ordinario del nostro Istituto. Rallegriamoci, il Signore è con noi. Vogliamo camminare insieme, diventare sante insieme, portare a compimento insieme l'opera che Dio ha iniziato nel nostro Padre Fulgatore? Sì, lo vogliamo. La regola di vita e comunione, intrisa di parola di Dio, del Magistero, degli scritti del Padre Fulgatore, ci è maestra, ci è vita. È l'unico tesoro che può arricchirci per il cielo, l'unico scudo contro le tentazioni, l'unico gioiello da stringere caramente al cuore. Ci aiuti, perciò, a vivere questo tempo di grazia, guidate da quanto espresso molto bene nei Suoi articoli. Finalità del Capitolo Il Capitolo Generale esercita nell'Istituto la suprema autorità a norma delle Costituzioni. È chiamato a discernere alla luce dello Spirito le modalità adeguate per custodire e rendere attuale, nelle diverse situazioni storiche e culturali, il nostro carisma e patrimonio spirituale. La celebrazione del Capitolo Generale costituisce un evento di grazia e di azione dello Spirito Santo per tutto l'Istituto. Tema del Capitolo Il tema del Capitolo, in sintonia con la canonizzazione di San Francesco e con le suggestioni raccolte durante la visita canonica nelle comunità svolta in questo ultimo anno, sarà Perchè tutti siano uno in Cristo, la comunione fraterna, genero e santità. Metodo La congregazione verrà raggiunta con due strumenti preziosi in due tempi diversi. Un approfondimento della lettera circolare 38 del Padre Fondatore e la relazione della Madre al termine di questo sessegno. Anche due strumenti saranno motivo di incontri comunitari, di lavoratori nello Spirito. Le riflessioni e risonanze emerse verranno poi integrate nello strumento di lavoro del Capitolano. LUOGO E TEMPO DEL CAPITOLO Il Capitolo Generale verrà celebrato nella nostra Casa di Spiritualità a Lennio. Sarà convocato il 23 giugno 2019 in Casa Madre con la presenza del Pescovo Antonio che ci conferma il nostro essere parte della Chiesa. Le Capitolari inizieranno poi gli esercizi spirituali guidati da sua Francesca Barocco. Seguiranno i lavori capitolari che si concluderanno prevedibilmente il 10 luglio 2019. Partecipanti Il Capitolo Generale deve essere composto in modo da rappresentare l'intero Istituto per risultare vero segno della sua unità nella carità. Le partecipanti al Capitolo Generale sono i membri di diritto secondo l'articolo 128 della Regola di Vita e Comunione, le delegate per la cui elezione vi verranno inviate successivamente le norme e il relativo maternale. Il Capitolo Generale In questo tempo di preparazione invocheremo insieme lo Spirito Santo con un'unica preghiera. Veniamo così confermati nel desiderio di essere un corpo solo in Lui. Alla preghiera aggiungiamo poi l'offerta della nostra vita quotidiana, come ci insegna il Cardinale Vantua. Vivo il momento presente col mandolo di amore. Affendo le occasioni che si presentano ogni giorno per compiere azioni ordinarie in un modo straordinario. Affidiamoci alla Vergine Maria, prima adoratrice del Verbo, e con il nostro amatissimo Fondatore diciamo a lei «Madre, dividi con lui il possesso del mio cuore e rendimi capace di amare lui». Chiediamo a San Francesco, nostro Padre, ai tanti amici santi protettori dell'Istituto, nonché alle nostre sorelle, che vivono già nella luce e nella pace del Signore, di poter dire con la nostra vita «Ecco, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la Tua parola». Carissime sorelle, mi porto il cuore nella preghiera, rinnovando il mio augurio di Natale. Lasciamoci scolpire il cuore dall'amore di Dio. Casa Madre, Natale del Signore 2018 Grazie.